Nel tran tran di inizio giornata solitamente si cammina in fretta si assorti mille pensieri si guarda l'orologio e si accelera il passo ma questa mattina qualcosa distratto i ravennati che attraversavano piazza del popolo è stata la musica del pianoforte a coda di paolo zanarella il pianista fuori posto che da anni ha abbandonato i teatri per portare la sua musica nelle strade nelle piazze di tutta italia cosa ci fa un grande bel pianoforte a coda nel cuore della città di ravenna in piazza del pop porta musica e gioia e vita va bene così perché un pianista fuori posto perché questo non è un posto tradizionale per mettere un pianoforte allora fuori posto siamo abituati a vederlo in una sala da teatro in salotto il pianoforte in mezzo a una piazza ecco tutto qua e è più bello suonare all'aperto di fronte a un pubblico anche magari casuale che si avvicina per la prima volta piuttosto che in un altro tipo di ambiente la vita è fatta di sorprese questa è una sorpresa pensa una persona che va a lavorare questa mattina si trova un pianoforte qua non ha deciso di trovare un pianoforte questa mattina se l'ha trovato questa è la sorpresa della vita buona giornata quanto ti fermerei la vita due tre giorni sempre qui in piazza del popolo vediamo cosa dicono i vigili grazie a tutti grazie a tutti